Buongiorno e benvenuto in questo video di Università in Cantiere. Oggi te l'ho fatta veramente difficile. Infatti, come sempre, mi piacerebbe che indovinassi di che cosa parliamo in questo video e sono stata veramente cattiva in questa immagine. Allora, ti lascio a riflettere qualche secondo e vediamo se indovini. Dunque, se hai risposto che parliamo di griglie, la risposta è sbagliata. In realtà, ci focalizziamo su una piccolissima parte di questa immagine. L'altro giorno, passando in cantiere, queste sono le scale che io salgo ogni mattina, o meglio, questo è un pianerottolo della scala che salgo ogni mattina, mi è caduto l'occhio verso il basso, precisamente in questo punto qui. ed ho notato una cosa fighissima che non vedevo da tempo. Allora, questi che sono qui sotto non sono altro che dei provini, dei campioni di terreno che sono stati prelevati da una macchina per capire come si sviluppa il terreno a mano a mano che si scende di metro in metro. Quindi, praticamente, ogni striscia di queste, adesso c'è una foto in cui te lo faccio vedere meglio, ecco qua, ogni striscia di queste è circa un metro di terreno, quindi è un cilindro di un metro di terreno. E sono messi in ordine, in base a come sono prelevati, una accanto all'altra e in questo grande scatolone, che è fatto apposta per questa categoria di prelievi. E qua ci sono i signori, i tizi, il geologo con l'operaio che ha eseguito la lavorazione, che stavano discutendo sull'esito del prelievo. Allora, ti faccio vedere un attimo meglio come viene fatto questo prelievo. Io la trovo una cosa molto interessante perché difficilmente ti capita di vederla. Io l'ho beccata al volo questa lavorazione in cantiere, quindi l'ho fotografata al volo. Non ho fatto in tempo a scendere per fotografare tutto il resto, quindi ho preso qualche immagine dal web per farti capire come avviene tutto quanto, perché ormai la lavorazione era già terminata. Però, allora, ecco, questo è un piccolo zoom, un po' sfogata, chiaramente, insomma, siamo, ero un po' lontanina. Comunque, eccola qua, vedi, questa è la scatola, con tutti i cilindrotti di terreno. Non so se ci fa caso, ma comunque la colorazione a mano a mano cambia e questo è il coperchio della scatola che prende e si chiude e questa scatola poi può essere trasportata al laboratorio per essere analizzata. Qui ce n'è un'altra, ok? Perché chiaramente non è che basta solo questa, si scende parecchio in profondità, fino alla profondità che serve in quel momento. Allora, come viene fatta? Dunque, ti faccio vedere meglio. Allora, questa è la macchina, non so se la riconosci, perché l'abbiamo già vista in qualche video precedente, sui video su come fare i pali di fondazione. Questa è la stessa identica macchina. A seconda della punta che viene caricata sulla macchina, chiaramente si può scavare, piuttosto che prelevare del terreno, piuttosto che infliggere un palo. Questa è la scatola che hai visto, che è questa qui, eccola, senza, ovviamente, priva di coperchio. E quindi questi signori che stanno facendo? Stanno scavando nel terreno a una bella profondità, perché come vedi qua ci sono parcheggiati almeno uno, due, tre, quattro, cinque di questi contenitori. Considera che ogni striscia è lunga circa un metro, perciò fa un po' tu quanti ne abbiamo, uno, due, tre, quattro, sono circa cinque metri su per giù ogni contenitore, quindi questi signori sono ascesi almeno di venticinque metri. Questo ti dà chiaramente un'idea del tipo di terreno che vai a trovare quando vai ad infliggere il palo. Calcola che, per esempio, i nostri pali vanno dai venticinque ai trenta metri, non sono chiaramente delle misure standard, dipendono dal tipo di terreno e dalle opere che devi andare a costruire sopra questi pali. Però, per farti capire quanto è relativamente semplice, perché portare questo bestione in giro non è per niente semplice posizionarlo, ci voglia solo mezz'ora per posizionarlo, e poi bisogna metterlo in funzione, però una volta che lo posizioni ci fai veramente tante cose interessanti. E dipende tutto dalla punta che utilizzi. Ovviamente questo è un esempio, certo non si utilizzano punte di plastica in cantiere, però questo è un esempio che ti fa capire come si passa dalle punte per prelevare il terreno a quelle invece semplicemente per scavare. Questo chiaramente è solo un esempio per farti capire come funziona la cosa. Se ti interessa questo argomento, vatti a rivedere il video che ho fatto sui pali di fondazione. Ti metto il link sotto a questo video, che è direttamente collegato a questo, in cui spiego meglio e più nel dettaglio come funziona l'utilizzo di questa macchinona qui. Te la faccio vedere anche da un'altra angolazione. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Io l'ho trovata veramente una chicca molto interessante, purtroppo non sono riuscita a prendere la lavorazione intera, perché l'avevano già terminata, però sono sicura di averti dato un quadro della situazione, di come avviene la cosa. E soprattutto non è una cosa che si vede spesso in cantiere, perciò l'ho trovata molto molto utile. Se ti è piaciuta questa lavorazione, metti un bel like sul video e iscriviti subito al gruppo Progettazione Competitiva, se non l'hai ancora fatto. Io ti aspetto ogni settimana, col video della prossima lavorazione. e se hai delle richieste in particolare, iscriviti al gruppo Progettazione Competitiva e fai lì la tua richiesta. Se ne ho la possibilità, sarò felice di accontentarti. Ciao!